Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo video tutorial della serie completa su come andare a creare un vostro negozio online andando ad utilizzare esclusivamente degli strumenti gratuiti come ad esempio la piattaforma WordPress, il plugin WooCommerce che serve appunto per andare a trasformare il vostro sito WordPress in un vero e proprio negozio online, quindi in un e-commerce e poi andiamo anche ad utilizzare l'edito visuale Elementor, quindi ancora tutti strumenti completamente gratuiti che potete andare ad installare all'interno del vostro spazio di hosting, questo ovviamente per andare a realizzare il vostro negozio online comunque se vi siete persi gli altri video che ho realizzato sempre all'interno di questa playlist potete trovare il link qui sotto al video quindi mi raccomando andate a cliccare sul link della playlist così potete andare a visualizzare sia i video precedenti e i video anche che andrò a realizzare in futuro ad ogni modo all'interno di questo settimo video praticamente vi vado a dare una panoramica diciamo generale del plugin WooCommerce quindi vi faccio vedere appunto una breve descrizione di cosa vi permette di fare il plugin e poi vi faccio anche vedere una panoramica sempre generale di tutte le impostazioni più importanti che vi mette a disposizione il plugin inoltre verso la metà del video insomma vi farò vedere anche tutto il processo di acquisto che deve effettuare un vostro cliente quando va ad effettuare appunto un acquisto sul vostro sito quindi cose sicuramente molto importanti che dovete imparare per andare a gestire il vostro negozio online comunque se questa è la prima volta che vedete uno dei miei video tutorial io mi chiamo Roberto Marchesini e sono il fondatore di assistenza Wordpress ovvero un sito web dove io insieme al mio team aiutiamo soprattutto aziende e professionisti a crearsi e gestirsi il proprio sito web utilizzando appunto nello specifico Wordpress quindi siamo altrimenti esperti su questa piattaforma detto questo se mi seguite da un po' di tempo sapete benissimo che mi piace fare dei tutorial molto molto pratici quindi direi che per questa introduzione è tutto passiamo sul mio pc che vi faccio appunto una breve panoramica del plugin WooCommerce e poi andiamo a vedere step by step tutti i processi che deve effettuare l'utente per andare ad acquistare qualche prodotto all'interno del vostro sito quindi passiamo subito alla parte pratica del video bene ragazzi è arrivato il momento finalmente di farvi vedere un po' di WooCommerce ora questo è lo stato attuale diciamo del nostro sito fino ad ora e se vado qui sul back end di Wordpress quindi andiamo sulla nostra bacheca praticamente vi faccio vedere che se vado qui su plugin ovviamente quando siamo andati ad importarci i template diciamo che abbiamo applicato adesso sul nostro sito siamo andati anche ad installare appunto dei plugin tra cui anche WooCommerce ovvero appunto il plugin che vi permette di trasformare il vostro diciamo normale sito Wordpress in un sito e-commerce infatti qui come vedete questi qui evidenziati diciamo sono i plugin attualmente installati e anche attivi sul sito quindi vedete che abbiamo il plugin checkout plugins Elementor, Maintenance, WooCommerce, WorldFence Security e WPForms Lite e volendo anche potete andare a cliccare qui sul tab attivi per andare a filtrare insomma i vari stati attuali dei plugin quindi questi attualmente sono i plugin attivi piccola diciamo parentesi visto che dall'ultimo video che ho registrato ci sono degli aggiornamenti da fare vi ricordo sempre di andare qui su bacheca aggiornamenti e di andare sempre ad aggiornare tutti i componenti del vostro sito ovviamente prima di andare ad aggiornare tutti i componenti mi raccomando fatevi una coppia completa di backup del vostro intero sito web quindi sia i file di Wordpress quindi del vostro sito ma anche il database MySQL che è collegato alla vostra installazione Wordpress così se avete problemi insomma con gli aggiornamenti potete sempre andare a ripristinarvi il vostro sito senza problemi in questo caso come vedete praticamente ci sono da aggiornare i due plugin WooCommerce e anche WPForms e c'è anche da aggiornare il tema Astra semplicemente vi consiglio di mettere la spunta qui per andare a selezionare ad esempio tutti i plugin, cliccare su aggiornare plugin e in pochissimi istanti insomma i vari plugin verranno aggiornati sulla vostra installazione Wordpress quindi mi raccomando attendete che i plugin vengano aggiornati e poi andiamo anche ad aggiornare il tema Astra che come avete visto insomma richiede un nuovo aggiornamento ecco qua che come vedete i plugin sono stati aggiornati senza nessun problema andiamo a cliccare su questo secondo link per tornare sulla schermata degli aggiornamenti e semplicemente facciamo la stessa cosa anche per quanto riguarda il tema Astra quindi andiamo semplicemente a mettere la spunta qui e andiamo a cliccare su aggiornare temi mi raccomando insomma di attendere sempre che vi esca questo messaggio insomma che il componente è stato aggiornato con successo clicchiamo nuovamente qua giusto per farvi vedere che adesso insomma abbiamo effettuato tutti gli aggiornamenti correttamente sulla nostra installazione Wordpress una cosa molto importante ovviamente per quanto riguarda Wordfense quindi la sicurezza del vostro sito qui se vedete diciamo un cerchio di colore giallo o arancione semplicemente andate qui a cliccare su dashboard perché qui praticamente Wordfense vi fa vedere determinate notifiche per quanto riguarda la sicurezza del vostro sito quindi andate sempre a controllare quali problemi ci possono essere all'interno del vostro sito web clicchiamo qui su questa notifica andiamo a scorrere la pagina e qui praticamente come singolo risultato vedete che Wordfense praticamente sta saltando lo scan di una determinata cartella sulla mia installazione Wordpress infatti se andiamo a cliccare qui su details quindi su dettagli potete vedere che praticamente questa directory quindi questa cartella specifica viene saltata dallo scan che viene effettuato da Wordfense a me non interessa perché questa non è una cartella relativa a Wordpress quindi semplicemente lo vado a marcare come risolto andando a cliccare su questo pulsante così Wordfense insomma la prossima volta non mi ricorda di questo diciamo problema che alla fine problema non è bene chiusa questa parentesi come vi ho fatto vedere insomma attualmente abbiamo appunto attivo il plugin Wordfense all'interno della nostra installazione Wordpress chiusa questa parentesi ragazzi scusatemi insomma se mi sono dilungato un po' troppo ma comunque vale sempre la pena farvi vedere queste piccole cose perché sono cose molto importanti che dovete sempre andare a fare al vostro sito web ora come vi dicevo se andiamo qui su plugin naturalmente abbiamo installato WooCommerce all'interno della nostra installazione Wordpress se non conoscete bene diciamo WooCommerce vi consiglio di andare sul sito Wordpress.org e praticamente sulla sezione dei plugin andate a cercare WooCommerce vi comparirà appunto la scheda del plugin e potete andare a vedere insomma esattamente quello che vi permette di fare quindi qui ovviamente trovate tutta una descrizione abbastanza dettagliata del plugin WooCommerce nella versione gratuita ovviamente e qui sulla destra potete vedere diciamo delle statistiche come ad esempio la versione attuale l'ultimo aggiornamento che è stato effettuato le installazioni di WooCommerce attive su siti Wordpress come vedete sono oltre 5 milioni le varie compatibilità anche con la versione PHP che è installata insomma sul vostro server e anche le recensioni quindi sicuramente una cosa utile oppure semplicemente cercate WooCommerce su Google e andate sul loro sito principale e qui proprio vi spiegano bene nei dettagli insomma quello che vi permette di fare inoltre hanno anche dei componenti aggiuntivi sempre all'interno del loro sito web che potete andare ad acquistare loro li chiamano appunto estensioni ad ogni modo qui potete vedere tutto quello che potete andare a fare grazie a WooCommerce detto questo dopo questa diciamo brevissima panoramica su WooCommerce vi volevo dire che praticamente adesso vado a disattivare momentaneamente WooCommerce e vedrete che qui sulla sinistra andranno a scomparire diverse voci giusto per farvi vedere insomma le cose che vi mette a disposizione WooCommerce infatti adesso come vedete sono scomparse diverse voci qui sul menu laterale andiamo nuovamente ad attivare il plugin WooCommerce e vedrete che nuovamente insomma appariranno diverse voci nello specifico sono apparse appunto le voci WooCommerce prodotti, pagamenti, dati analizzati e anche marketing quindi diciamo che queste sono sezioni generali per quanto riguarda andare a modificare le varie cose dei plugin di WooCommerce sicuramente adesso vi faccio vedere diciamo una panoramica molto veloce delle impostazioni di WooCommerce ma poi vi faccio vedere anche appunto tutto il processo di acquisto che viene fatto tramite il nostro sito web al momento insomma in cui sto registrando questo video poi ovviamente nei video successivi vi faccio vedere tutto molto più nel dettaglio e andando ad impostare tutte le varie cose semplicemente ragazzi qui su WooCommerce se ci vado a cliccare sopra praticamente andrò a finire sulla dashboard o la home diciamo del plugin dove mi vengono diciamo mostrate diverse cose adesso attendiamo un attimo che si carichi la pagina visto che non ho ancora effettuato il setup iniziale di WooCommerce come vedete adesso praticamente mi è scomparso il back end di WordPress e mi è comparso diciamo questo pop up dove mi fa andare a configurare appunto i plugin per il momento a me non interessa perché vi faccio vedere proprio nel dettaglio andando a farvi vedere tutte le impostazioni di WooCommerce nel prossimo video tutorial quindi mi raccomando di andare a vedere la playlist che ho creato appositamente per registrare questa serie di video perché troverete insomma tutti i video dove vi vado a spiegare in dettaglio come andare ad impostare WooCommerce quindi vado a saltare io adesso praticamente il setup iniziale di WooCommerce quindi semplicemente vado su questo link per tornare sulla bacheca del mio sito vi faccio vedere molto velocemente queste diciamo voci del sottomenu andiamo a cliccare qui su ordini e qui ovviamente ragazzi potete andare a gestire tutti i vari ordini che entreranno tramite il vostro sito quindi sia quelli che entrano lato front end quindi che fanno i vostri clienti ma ovviamente voi come amministratori potete anche andare ad aggiungere un praticamente ordine manualmente quindi molto molto semplice poi sempre da questo menu di sinistra andiamo su clienti e qui naturalmente potrete andare a trovare tutti i vostri dati dei vostri clienti man mano che ovviamente andrete a ricevere gli ordini all'interno del vostro sito naturalmente questo è un sito demo quindi non ho alcun dato appunto da visualizzare ma qui troverete la lista dei vostri clienti gli ordini medi come vedete la spesa media eccetera eccetera quindi tutte queste cose ve le mette a disposizione WooCommerce in modo gratuito codici promozionali ovviamente non vi faccio neanche vedere perché la voce è molto intuitiva da qui potete andare appunto a creare e gestire i vostri codici coupon rapporti potete andare a vedere delle statistiche del vostro sito web le impostazioni vi faccio vedere diciamo una brava panoramica ad ogni modo qui potete appunto andare ad impostare tutte le cose di WooCommerce e se andiamo ad esempio sui vari tab ad esempio qui su prodotti qui sotto trovate anche un sottomenu per andare proprio ad impostare tutte le cose della categoria prodotti tutte le cose ovviamente della spedizione i pagamenti eccetera eccetera per quanto riguarda lo stato invece andiamo a cliccare su questa sottocategoria e qui praticamente trovate delle statistiche per quanto riguarda l'ambiente WordPress quindi la vostra installazione WordPress e per quanto riguarda anche l'ambiente server quindi se ci sono problemi ovviamente qui vengono elencati e anche delle cose importanti per quanto riguarda il database MySQL collegato alla vostra installazione WordPress trovate anche insomma vari strumenti, le azioni programmate di WooCommerce e così via se andiamo qui su estensioni invece qui troviamo praticamente tutte le estensioni che possiamo andare ad aggiungere alla nostra installazione WordPress ci sono ovviamente sia estensioni gratuite ma anche a pagamento come vedete che sono state realizzate proprio dagli sviluppatori di WooCommerce quindi naturalmente WooCommerce è sia un plugin gratuito ma l'azienda che ha realizzato il plugin WooCommerce guadagna anche dei soldi andando a realizzare delle estensioni specifiche che ovviamente vi aiutano sicuramente su un campo specifico del vostro sito web quindi troverete sicuramente tante tante estensioni da varo molto utili che sicuramente vi torneranno di aiuto per il vostro sito molto velocemente ragazzi andiamo qui su prodotti e adesso qui praticamente potete andare a gestire tutti quelli che sono ovviamente i vostri prodotti che avete caricato o che volete caricare sul vostro sito web e quindi sul vostro negozio online andando a cliccare su un singolo prodotto ovviamente potete andare a modificare tutto quello che riguarda un singolo prodotto quindi titolo, descrizione, immagini del prodotto, galleria, prezzo, spedizione, inventario eccetera eccetera qui sempre sulla sinistra ovviamente potete andare ad aggiungere un nuovo prodotto potete andare a creare delle varie categorie o tag di prodotti potete andare a definire i vari attributi e anche andare a gestire le recensioni che vengono rilasciate sui vostri prodotti per quanto riguarda pagamenti molto velocemente qui praticamente potete andare ad impostare i vari pagamenti all'interno del vostro negozio online non vi preoccupate comunque che nel prossimo video tutorial vi farò vedere nel dettaglio come andare ad impostare i pagamenti mentre se andiamo qui su dati analizzati praticamente vi vengono elencate tutta una serie di statistiche per quanto riguarda il vostro negozio online quindi come vedete trovate il totale delle vendite vendite nette, gli ordini, i prodotti venduti le varie varianti insomma di prodotti che avete venduto eccetera eccetera questo appunto in modo completamente gratuito e qui naturalmente trovate diciamo il classico calendario che potete andare a personalizzarvi a vostro piacimento per andare a prendere le vostre statistiche quindi direi che in modo completamente gratuito WooCommerce vi mette davvero tanto tanto a disposizione e sempre da questo menu di sinistra da qui potete andare ovviamente a filtrare ancora di più tutti i dati che vedete qui sulla panoramica generale quindi se volete andare a vedere delle statistiche proprio specifiche di un determinato prodotto andrete qui su prodotti per quanto riguarda fatturato su fatturato ordini, ordini eccetera eccetera insomma non vi faccio vedere adesso in questo video tutte queste diciamo pagine comunque vi faccio vedere nel prossimo tutorial adesso una cosa molto importante invece vi faccio vedere diciamo il workflow quindi tutti i passaggi che l'utente deve effettuare quando va ad acquistare un prodotto all'interno del nostro negozio quindi innanzitutto andiamo a cliccare su questo link per andare a visitare il nostro negozio ed ecco qua che ovviamente siamo finiti sulla pagina del negozio vi consiglio di andare a visitare il vostro sito web slogati dal vostro pannello di amministrazione quindi semplicemente vado a copiarmi il link del mio negozio vado qui in alto a destra e vado ad aprirmi una nuova finestra privata andiamo ad incollare il nostro link quindi andiamo a visitare il nostro sito ora ovviamente se non sbaglio sì esatto abbiamo attiva ancora la modalità di manutenzione ad ogni modo torniamo qui sul back end di wordpress e andiamo momentaneamente a disattivare la modalità di manutenzione quindi semplicemente andiamo qui su maintenance ovvero il plugin che abbiamo utilizzato per attivare la modalità di manutenzione sul nostro sito e andiamo a disattivare questa modalità e poi ovviamente andate a salvare i cambiamenti torniamo sulla nostra pagina privata e andiamo a ricaricare la pagina e ora ovviamente andremo a visualizzare il nostro negozio proprio come se fossimo degli veri utenti bene il processo di acquisto è davvero molto semplice per quanto riguarda insomma il nostro negozio vi faccio vedere ad esempio appunto la prima pianta quindi vado a cliccare su questo prodotto ovviamente può essere un prodotto qualsiasi al momento io ho caricato insomma questi prodotti demo qui trovo ovviamente tutte le informazioni del mio prodotto quindi il titolo, il prezzo, la descrizione le varie quantità che posso andare ad ordinarmi le recensioni eccetera eccetera mettiamo caso che voglio andare ad acquistare questo singolo prodotto quindi vado a cliccare su aggiungi al carrello e diciamo che in base al tema che avete scelto di andare ad utilizzare per realizzare il vostro negozio online qui può apparire diciamo questa notifica oppure vi può apparire come vedete qui in alto a destra il carrello che è stato aggiornato infatti adesso se vado a cliccare su questa voce come vedete mi si appare questo pop up qui diciamo come slider a destra e mi fa vedere praticamente qui in tempo reale i prodotti che sono stati aggiunti al carrello del sito quindi potete andare a vedere ovviamente tutti i prodotti volendoli potete anche andare a togliere potete andare a visualizzare con un colpo d'occhio il totale che abbiamo aggiunto insomma al nostro carrello potete andare a visualizzare il carrello oppure direttamente procedere con il pagamento quindi andare direttamente sulla pagina di checkout in sostanza appunto come vedete abbiamo due opzioni per andare a procedere con l'acquisto ovvero andare a cliccare qui su visualizza carrello da questa notifica oppure cliccare su questo chiamiamolo così widget e andare a cliccare qui su visualizza carrello quindi andiamo a cliccare su questo pulsante ed ecco qua la pagina del carrello diciamo di default come adesso utilizzando il layout che ho scelto come vedete praticamente qui ovviamente vengono elencati tutti i prodotti che abbiamo aggiunto al nostro carrello quindi l'immagine potete andare a vedere il titolo quindi il nome del prodotto, il prezzo, la quantità aggiunta e il totale ovviamente da qui potete anche andare ad aggiungere o meno diverse quantità dei prodotti quindi potete andare a modificare questa cosa se avete un codice promozionale ovviamente lo potete andare ad aggiungere su questo campo e così via nel nostro esempio mettiamo caso che io adesso voglio andare ad ordinarmi semplicemente questo prodotto quindi vado a cliccare su buy now quindi acquista ora e qui praticamente adesso siamo sulla pagina del checkout ovvero dove i vostri clienti devono andare a compilare tutti questi dati quindi nome e cognome, nome della società se acquistano insomma con partita IVA andare ad inserire la nazione da dove stanno andando ad acquistare l'indirizzo, città eccetera eccetera insomma qui volendo possono anche andare a lasciarvi delle note che voi come amministratori andrete a visualizzare l'atto back end e qui sulla destra c'è diciamo il riepilogo dell'ordine quindi trovate ovviamente tutti i vari prodotti il totale da pagare e così via come vedete adesso c'è diciamo questo errore per quanto riguarda i sistemi di pagamento perché vi faccio vedere molto velocemente se torniamo sul back end di WordPress se andiamo su WooCommerce e andiamo sulle impostazioni se andiamo ovviamente sulle impostazioni qui dei pagamenti quindi clicchiamo su questo tab vedrete che al momento non ho ancora impostato alcun sistema di pagamento all'interno del sito quindi come vedete qui su abilitato per il momento non è stato abilitato nessun sistema di pagamento ovviamente adesso se vado ad abilitare molto velocemente insomma il sistema vado a salvare le modifiche giusto per farvi vedere insomma torniamo su questa vista vado a ricaricare la pagina vedete che praticamente adesso posso procedere con il pagamento bonifico bancario ad ogni modo ragazzi non vi preoccupate questo è un tema sicuramente molto importante e vi faccio vedere in uno dei prossimi tutorial proprio nel dettaglio come potete andare a configurarvi i sistemi di pagamento più utilizzati come ad esempio Stripe per quanto riguarda i pagamenti con carta quindi carta di credito, carta di debito e così via e anche per quanto riguarda andare a configurare il pagamento via Paypal che in Italia insomma è un sistema di pagamento molto utilizzato ovviamente ragazzi una volta che l'utente ha compilato tutti questi dati e va ad effettuare il pagamento quindi va a cliccare su effettua ordine riceverà ovviamente un'email riepilogativa dove all'interno dell'email ovviamente saranno scritti tutti i prodotti che ha acquistato il metodo di pagamento, la fattura e così via comunque vi faccio vedere nel prossimo video tutto molto molto nel dettaglio quindi mi raccomando continuate a seguire questa serie di video bene ragazzi come avete visto all'interno di questo video vi ho spiegato brevemente insomma cosa serve il plugin WooCommerce vi ho fatto vedere anche un po' le sue impostazioni e vi ho fatto vedere tutto il processo di acquisto che deve effettuare insomma un vostro visitatore o un vostro già cliente per acquistare qualcosa all'interno del vostro negozio online naturalmente spero che con questo video vi sono stato di aiuto mi raccomando che se vi sono stato di aiuto lasciatemi quantomeno un bel mi piace qui sotto al video e se non lo avete ancora fatto vi consiglio anche di iscrivervi al nostro canale youtube perché rilascio continuamente nuovi video tutorial simili a questo qui che avete appena visto che vi permettono insomma di andare a creare o a migliorare un vostro sito in wordpress tratto argomenti insomma esclusivamente per quanto riguarda andare a creare e gestire siti web in wordpress se avete dei dubbi o delle domande su questo video specifico sentitevi liberi di scrivermi il vostro commento utilizzando il box che trovate qui sotto al video sappiate che sia per me ma anche per i membri del mio team è sempre un piacere insomma leggere tutti i vostri commenti e facciamo il possibile per rispondere sempre a tutti detto questo non mi resta altro che salutarvi ragazzi grazie mille se siete arrivati a vedere la fine di questo tutorial per me ovviamente conta molto ma spero ovviamente di esservi tornato di aiuto quindi per il momento io vi saluto ma noi naturalmente ci vediamo nel prossimo video quindi ciao ragazzi e alla prossima